via via c'è il telemetro uno in mezzo al campo che è uno zombie raga uno zombie quello fermo col cappello da cowboy mezz'ora che è lì ma io guardo a destra cassa militare cassa militare cassa militare AK falle R15 ZF 42 riflesscope e va su le armi vintage occhio chi ha che spara l'ho fatto c'è ma erano zombie questo sentimi ride come faceva finta ad essere zombie era lì fermo da mezz'ora si io pensavo fosse un zombie sono andato lì per ucciderlo ma è sparato t'ha fatto eh si fermi tutti aspettiamo di no fossero zombie del santo nooo